cari amici ultimo video ma poi mi arriverà uno proprio conclusivo per spiegare perché non mi vedrete per un paio di giorni credo massimo una settimana allora parliamo di wrestling wwe il mio pensiero su nxt del cover sportland già vi dico che io lo candido a pay per view almeno di nxt dell'anno del main roster può fare anche a gara comunque partiamo innanzitutto dai risultati si apre la serata con kate lee contro domenica di giacovic bellissimo impegno massimo di tutte e due vinge mantiene il titolo nord americano kate lee in 20 minuti e 20 secondi poi secondo me c'è che me c'è che mazzate da gota kai contro tegan hox in uno street fight vinge da gota kai tegan hox viene buttata giù scantata da un tavolo da un'intrusa in 13 minuti e 24 secondi terzo match della serata fin bello batte johnny gargano in 27 minuti e 22 secondi ottimo match ria ripley batte bianca belera e mantiene il titolo di nxt in 13 minuti e 30 che però subito dopo il match charlotte flash devasta ria ripley e annuncia ufficialmente il match che le due avranno presto almeno a 36 con in palio il titolo femminile di nxt appunto detenuto da ria ripley quindi che match che si aggiunge alla card di presto almeno a 36 abbiamo già brock lesnar contro drew mckintyre quinto match della serata è prima ed unico cambio di titolo del pay per view i browserways matt riddle e pitt down battono l'undispute di dira anche questo grandissimo match quindi browserways matt riddle e pitt down nuovi campioni di coppa di n di coppia di nxt in 16 minuti e 58 secondi nel main event match di chiusura della manifestazione adam call batte tommaso ciambe mantiene il titolo massimo di nxt in 33 minuti e 23 secondi ma 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 c'è da dire che qui sono intervenuti tutti l'andispute di dira johnny gargano e proprio johnny gargano effetto un tour nil cioè raggira tommaso ciampa perché sembrava che johnny gargano voleva aiutare domasso ciampa ma così non è stato e quindi invece di portare alla vittoria domasso ciampa c'è stata la sconfitta dello stesso ciampa e poi la federazione ha ufficializzato un nuovo take cover di nxt gran bretagna che ora vado a dirvi quando si terrà regia prego di mandarmi la scheda se il 26 aprile che ho visto e di domenica ci sarà nxt uk take cover dublino alla tree arena dublino irlanda quindi ad aprile non prendete impegno avremo treppi per più nxt take cover tampa bay tampa florida presso la emilia arena presto almeno 36 presso lo raymond james stadium il giorno dopo il 5 aprile e 21 giorni dopo tre settimane dopo nxt uk take cover dublino quindi nxt take cover portland 2020 per me molto molto positivo li do 5 stelle da 1 a 10 voto 10 va stavolta solo merita tutto il 10 grazie a tutti ci vediamo tra un po' per il video che spiegherò la mia assenza per vari giorni ciao a tutti ciao a tutti ciao